Eppure il vento soffia ancora. E' questo il titolo che abbiamo scelto per celebrare il nostro trentennale con una rassegna di eventi, live, incontri anche in presenza, dirette streaming, ma anche proiezioni, mostre, percorsi interattivi rivolti a diversi pubblici, tra cui famiglie con bambini e bambini. Per cui una proposta articolata, è impossibile qui in un minuto riassumere tutto, ma vi invitiamo davvero a seguirci sul nostro profilo Facebook e a trovare tutte le informazioni sul nostro sito www.forumpace.it Parleremo di cura di tutta la vita, quindi dell'ambiente, ma anche della dignità della persona, dei popoli. Parleremo di discriminazione, di linguaggio d'odio, di parole ostili, temi assolutamente attuali che ci spingono a trent'anni dall'istituzione del forum a dire che quel vento della canzone di Bertoli davvero soffia ancora.